Ben ritrovati, abbiamo invitato qui nel nostro stand di match fishing Maurizio Natucci, il presidente del settore pesca di superficie. Maurizio, sei appena rientrato da una trasferta molto impeditiva in Sudafrica, giochi mondiali per la pesca, una trasferta che è stata davvero strepitosa per i nostri colori, raccontaci qualcosa. Beh, intanto guarda, grande fatica, grande sforzo fisico, ma grande sforzo organizzativo e grande sforzo economico da parte della federazione. Negli ultimi sei mesi abbiamo passato a organizzare il tutto, portare 130 persone in Sudafrica con tutto il materiale a veramente un'impresa. E quindi permettimi di spendere due parole di ringraziamento a chi con me, che sono i componenti del settore, ma anche i nostri dipendenti, ha collaborato perché tutto questo avvenisse nella migliore maniera possibile. La manifestazione è stata eccezionale, a Sudafrica è un posto completamente diverso da tutto il resto del mondo, bellissimo, devo dire, ma con tanti problemi. E quindi non è stato facile, soprattutto portare il materiale, soprattutto poi a dislocare le varie nazionali nei vari posti dove sono andati. Anche perché in Sudafrica è molto grande, le distanze sono impressionanti. Incredibile, da Johannesburg fino ad arrivare alla città del Capo è completamente un altro posto. L'attività agonistica è andata molto bene, io sono molto contento. Dei 13 campionati che abbiamo fatto su 8, a 8 siamo andati a medaglia. In 2, il Black Bus e il Cercasting Signores, abbiamo fatto due quarti posti che gridano vendetta. Nei predatori da barca, diciamo che potevamo fuori un podio, ma insomma abbiamo ottenuto un buon risultato nel settimo posto. Un po' di delusione per il carfishing e il Cercasting femminile, ma sono sicuro che ripartiremo anche lì, a breve termine. Trasferta comunque molto positiva, un sacco di medaglie, quindi diciamo che tutto lo sforzo che avete fatto ne è valsa la pena. Sì, guarda, ci sono anche, poi abbiamo avuto anche delle cittadine sulla torta, le grandi soddisfazioni col campionato femminile, con il FIDE, ma con i master. Cioè è stato incredibile. La gara che mi ha menzionato più di tutti è stato il campionato del sabato, del femminile, che insomma a 50 minuti della fine eravamo non benissimo. In 50 minuti si è ribaltato il mondo, abbiamo preso un argento incredibile, con un po' di rammarico, perché Veronica Visciglia è rimasta con una calpa di 3 kg sul guadino, e voleva dire l'oro individuale, però è stata veramente una prestazione incredibile. Pure quella del FIDE è stata una prestazione incredibile, perché hanno rimontato 10 punti ai maestri inglesi, è tutto un dire. Diciamo che anche l'argento di Govi è un argento che brilla un po' di più, ma brilla un po' di vendetta, perché per due giorni quello che ha vinto, bravissima per l'amore del cielo, però una volta 120, una volta 70 grammi, è un argento che poteva essere anche un oro. Però devo dire che tutto questo è stato eccezionale. Bravissimi come sempre i master, non lo so, forse i vecchietti come li chiamiamo noi in Italia, sono sempre più bravi, perché da tutte le discipline abbiamo preso medaglie, questi sono master. Ora si tratta di iniziare l'attività nazionale, ma anche l'attività internazionale in Italia, dove quest'anno abbiamo... Infatti, perché quello è il passato, adesso però non ci si ferma mai, siamo pronti, ci sono, se non erro, sette mondiali su quattro località proprio qui in Italia, quindi lo sforzo organizzativo della FIPSAS non si ferma con il Sudafrica. No, guarda, il tempo di riposarsi e ripartiamo. Partiamo con giugno, Porto Torres, campionato europeo di Canada arriva. Poi andiamo direttamente sempre a giugno nello scolmatore, dove verrà disputato il campionato del mondo diversamente abili e veterani. Andiamo a settembre a Gallipoli, dove ci sarà la canna natante Under 21 e Signores e finiamo a Sabaudia con il circassing Under 16 e Under 21. Su questo devo dire che ormai la macchina della federazione, il movimento è rodato, non ho grandi preoccupazioni. Certo, il Sudafrica ci ha portato via tantissime energie, però diciamo che noi siamo preparati. Quindi preparati per tutto, il passato è stato straordinario, il futuro lo sarà altrettanto, non ci resta che ringraziarti e farti un bocca al lupo per questi impegni che ti attendono. Ma ringrazio voi perché siete comunque sempre disponibili, comunque siete delle persone che volontariamente raccontano sempre l'agonismo e mi fa veramente piacere e questo vi devo dare un ringraziamento particolare perché non è facile trovare persone come voi. Grazie a tutti. Grazie mille Maurizio, grazie. Grazie a tutti.